buongiorno a tutti iniziamo questo incontro di stamattina prima di iniziare una cosa ovviamente ringraziare innanzitutto professor Juan Carlos de Martín che è con noi e docente a Politecnico di Torino vicerettore del Politecnico di Torino e un'autorità nel campo dell'automatica e dell'informatica e quindi è davvero con grande piacere che abbiamo la possibilità di dialogare con lui questa mattina prima di passargli la parola una sola comunicazione ricordo ancora che volta che sabato mattina prossimo recuperiamo la lezione del professore Gianluigi Gatta sul tema enorme della riforma della giustizia detto questo io passo direttamente la parola al professor Juan Carlos Martín è l'oggetto della sua comunicazione digitalizzazione ritardo da colmare e cultura a costruire un tema che è entrato in tantissimi modi nelle conversazioni nostre dei giorni precedenti della settimana precedenti e che oggi è affidato alle mani di uno studioso specialista di grande nome sulla materia a lei professore la parola grazie molte condivide lo schermo dovrei essere abilitato per la condivisione dello schermo e lo dico alla regia intanto dico due parole vi ringrazio molto per questo invito è un piacere essere di nuovo alla casa della cultura perché in realtà fu invitato dal collega De Michelis qualche anno fa prima della pandemia e quindi ritorno anche se con queste modalità online e non senza il piacere di essere invece fisicamente con voi allora vediamo se riesco ok sì scusate devo dare un'autorizzazione parlando di informatica ok vi lascio per un istante ritorno immediatamente perché così impone il sistema operativo arrivo subito perfetto eccomi qua e condividiamo lo schermo perfetto perfetto da questo punto dovreste vedere le mie slide giusto vediamo perfettamente molto bene allora di nuovo grazie il tema che mi è stato affidato e digitalizzazione ritardo da colmare e cultura da costruire un tema ovviamente molto molto grande visto il ruolo che adesso hanno le tecnologie digitali trasversalmente mi viene da dire tutti in tutte le attività umane ma quasi in moltissime attività umane settori industriali settori dei servizi informazione politica insomma tutto quello che sapete e vi dico solo due parole per farvi capire il mio percorso quindi anche un po forse per spiegarvi il taglio di questa lezione come come ho detto nell'introduzione io sono un docente del Politecnico di Torino sono un docente di ingegneria informatica però un docente di ingegneria informatica che da ormai quasi vent'anni perché ormai si tratta di questo proprio per cercare di capire il ruolo delle tecnologie digitali l'impatto che hanno perché alcune vengono sviluppate perché altre non vengono sviluppate insomma per capire un pochino di più le tecnologie che ho imparato a studiare e a sviluppare da circa vent'anni collaboro in maniera stretta con giuristi, economisti, filosofi collaborazione che portò ormai 15 anni fa nel 2006 alla fondazione del centro NEXA su internet e società al Politecnico di Torino in stretta collaborazione con l'Università di Torino quindi la lezione che vi presento è la lezione di qualcuno che parte dal dato tecnico e che progressivamente ha dovuto un po' di forza incorporare aspetti economici, storici, sociologici e così via per rispondere in primis alle proprie domande, alle domande che mi sono posto nel corso degli anni e quando mi sono sentito pronto a iniziare a restituire quello che mi sembrava di capire ho cominciato appunto a fare lezioni come quelle che vedete in corso del Politecnico e poi in vari altri contesti fatta questa promessa il fatto che il digitale sia la tecnologia chiave del ventunesimo secolo ormai è abbastanza adatto per acquisito, non è chiaramente l'unica tecnologia ci sono anche tecnologie dei materiali e tante altre tecnologie genetiche e così via però mi sento di poter dire che in ogni caso anche in queste altre tecnologie nanotecnologie, biotecnologie eccetera il digitale comunque gioca ruolo decisivo quindi digitale in quanto tale più digitale come tecnologia che innerva e abilita tante altre tecnologie sia tradizionali sia nuove quindi ovviamente sono in conflitto di interessi ma mi sento che sia possibile argomentare che il digitale sia veramente la tecnologia chiave del ventunesimo secolo pur essendo nata nel cuore del ventesimo secolo piccolissima premessa comunicazioni perché il digitale e il digitale sono tecnologie che permettono di elaborare simboli trasmettere e elaborare simboli quindi in realtà si inseriscono dentro un filone a monte che è quello delle tecnologie della comunicazione e in ogni caso dentro ancora un altro filone ancora più ampio che è quello delle tecnologie elettriche quindi siamo figli della rivoluzione dell'elettricità nell'inizio dell'ottocento e a questo punto di vista l'importanza del digitale condivide l'importanza delle comunicazioni che sono una tecnologia strategica da sempre lo erano in epoca con tecnologie totalmente analogiche in epoca classica e lo sono hanno continuato a rimanerlo anche in epoca moderna con le tecnologie della comunicazione elettrica dal telegrafo in avanti se noi anche da dilettante come sottoscritto leggiamo qualcosa sulla storia del telegrafo e poi dei telefoni radio, televisione, satelliti e così via cavi sottomarini scopriamo subito che è una tecnologia strategica strategica dal punto di vista geopolitico militare, commerciale e così via e da questo punto di vista mi ha colpito trovare questa seguente citazione che adesso vi faccio vedere del 1960 vi dico solo alla fine di chi è ora una nazione forgia la propria unità nella misura in cui i suoi membri comunicano tra loro se lo straniero che in questo sia regolarmente o no si impone ai cittadini come un intermediario permanente se bisogna passare attraverso di lui per illuminare il lavoro gli studio la vita privata stessa se l'elettrificazione delle campagne viene deciso e rimandata qua in questo passaggio si parla sia di comunicazione che di elettricità in un'altra capitale dagli abitanti di un altro paese e in considerazione degli interessi di un altro paese la nazione si disgrega soffre di una ferita nel più profondo della sua unità nella comunicazione i cittadini vengono separati i monopoli statunitensi introducono a Cuba uno stato nello stato regnano su un'isola resa anemica dall'emorragia valutaria questa è una citazione della visita che fece Jean-Paul Sartre nel 1960 subito dopo la rivoluzione cubana quando ancora i monopoli statunitensi controllano i telefoni e l'elettricità e probabilmente anche altre infrastrutture essenziali torniamo quindi al digitale tecnologia chiave del ventunesimo secolo tema immenso che ovviamente sfiorerò soltanto nel corso di questa lezione ma questo lo capite facilmente consentitemi però un'ulteriore premessa cioè quando si parla di digitale avendo ormai una discreta anzianità a trattare questo tema ho potuto notare qualcosa che penso sia probabilmente avete già notato anche voi cioè che il discorso sul digitale è strutturato a ondate il sistema mediatico è travolto periodicamente da ondate su l'ennesima grande novità che nel corso degli anni sono state ve lo ricordate cloud computing una decina di anni fa big data blockchain intelligenza artificiale autoguida autonoma e così via sono ondate che saturano il sistema mediatico e hanno poi tipicamente anche un impatto economico un impatto sul decisore politico nel nostro ambito io sono un docente universitario si dice dobbiamo assolutamente fare corsi di laurea attivare lauree su uno di questi argomenti e quindi l'impatto è reale di queste ondate mediatiche però parlo appunto di ondate mediatiche perché ogni volta c'è della sostanza tecnica più o meno interessante più o meno rilevante quindi non sto dicendo che vengono costruite queste ondate sul nulla c'è della sostanza che da tecnico chiaramente apprezzo apprezzo oltre di più a volte di meno però a parte la sostanza c'è anche molto marketing quindi sono fenomeni che dovremmo leggere più con le lenti del marketing c'è qualcuno che vuole vendere qualcosa perfettamente legittimo come attività ovviamente le parole stesse indicano questa connotazione di marketing la nuvola l'elaborazione sulla nuvola non è un'espressione tecnica è un'espressione di marketing è seducente se va a indicare qualcosa di etereo di intangibile di attraente quindi e giustamente qualche tecnico quasi subito inventò questo slogan dicendo il cloud non esiste è semplicemente il computer di qualcun altro oppure l'intelligenza artificiale che è un'espressione che è stata coniata addirittura nel 1956 quando i computer erano ancora relativamente pochi costosi difficile da usare e fu coniata volutamente da proto-informatici ma volutamente con un appeal da marketing con un appeal di dire faremo cose mirabolanti finanziateci tra l'altro in piena guerra fredda e ancora adesso l'intelligenza artificiale è chiaro che la usiamo anche noi in ambito tecnico ma sappiamo altrettanto bene in ambito tecnico che è per esempio molto difficile definirla quindi in realtà anche questa è un'espressione che serve a capirci ma ha una connotazione seducente anche l'uso della parola intelligenza è chiaramente una scelta di questo tipo e non di rado elementi speculativi nel senso che queste ondate arrivano tipicamente arrivano tutte sistematicamente dalla costa ovest degli Stati Uniti dalla cosiddetta Silicon Valley e quindi sono chiari interessi a volte sono interessi di plasmare l'attenzione pubblica a volte sono interessi chiaramente di vendita di prodotti di servizi e agganciati a questi come è normale in un'economia come capitalista come la nostra anche elementi speculativi quindi da questo punto di vista vi posso fare un esempio concreto io sono un politecnico in una città come Torino che ha lunga tradizione automobilistica quindi vi ricordate la grandissima enfasi sugli automobili a guida autonoma vi aiuto a ricordare cosa succedeva 2018 dicembre 2018 quindi tre anni fa questo è il mini sito di Wired rivista che era la bibbia della Silicon Valley un'intera guida alle macchine che si guidano da sole quindi questo siamo al punto al picco dell'ondata mediatica nel 2018 in questo periodo si presentano le macchine a guida autonoma come fossero imminenti dietro l'angolo tra poco ci saranno oddio cosa facciamo l'Economist dieci mesi dopo quindi novembre ottobre 2019 l'Economist si possono dire tante cose su questo settimanale sicuramente ha delle antenne abbastanza sensibili anche in abito tecnologico e fa un articolo in cui dice le auto a guida autonome sono bloccate nel traffico viasimate l'hype quindi la fuffa di Silicon Valley e i limiti dell'intelligenza artificiale e dentro l'articolo c'è una citazione di un esperto che dice le macchine a guida autonoma quindi quelle completamente a guida autonoma quelle che sembravano imminenti appariranno gradualmente nei prossimi da 30 a 50 anni allora quando qualcuno vi dice che una certa tecnologia apparirà tra i prossimi 30 e 50 anni non so cosa come regite voi io immediatamente spengo l'attenzione nel senso che tra 30 e 50 anni forse anche per motivi anagrafici non mi interessa ma in genere quando una tecnologia viene proiettata così lontano nel futuro è perché in realtà i problemi sono ancora giganteschi non si ha la minima idea di come veramente risolverli e andiamo ancora un pochino avanti un anno successivo quindi dicembre 2020 Uber che vi ricordate aveva reagito inizialmente alle polemiche che innescava sul trattamento spesso vergognoso nei confronti dei propri guidatori dicendo vabbè non c'è nessun problema tra un po' faremo a meno di questi rompiscatole avremo le nostre macchine a guida autonoma e quindi aveva investito parecchi soldi nello sviluppo di macchine a guida autonoma e nel dicembre 2020 dichiara fallimento dice la vendo non mi interessa per il momento dobbiamo tenerci gli esseri umani che guidano per pochi soldi e quindi si chiude per me si chiude un'epopea su quella della macchina a guida autonoma però ondata dopo ondata lustro dopo lustro al certo punto senza scadere credo nel complottismo mi viene quasi il sospetto di queste ondate mediatiche che saturano costantemente i media quindi i media sono sempre avviluppati dentro una di queste ondate o tra le code di varie ondate e abbia come effetto collaterale magari non esplicitamente voluto come effetto collaterale è quello di non parlare di cose molto meno attraenti molto meno luccicanti ma essenziali per comprendere come stanno le cose quindi in qualche modo da 15 anni 20 anni queste ondate mediatiche ci inducono a parlare del cloud computing e dei big data delle macchine a guida autonome dell'intelligenza artificiale di blockchain adesso di recente l'ultima è la web 3 e qua a parlare quasi mai invece di cose straordinariamente importanti ma molto meno attraenti dove però si racchiude una parte importante del potere digitale e di questo vi voglio parlare abbastanza estesamente quindi diamoci come obiettivo che è culturale intellettuale prima ancora che politico di riuscire a leggere la realtà questo vale per il digitale ovviamente vale per tutto immuni dalla propaganda questa potremmo proprio chiamarla tecnicamente propaganda e seguendo la propria agenda cioè dicendo va bene c'è qualcuno che legittimamente vuole imporre la propria agenda ed è così che si gestisce il potere perché ha dei propri obiettivi ma quali sono i nostri obiettivi qual è l'agenda l'agenda dell'Unione Europea l'agenda dell'Italia l'agenda di una realtà locale in maniera tale da poter dire sì l'intelligenza artificiale smascherare l'hype la fuffa capire esattamente di cosa stiamo parlando e dopodiché dire questa cosa qui mi serve non mi serve mi potrebbe servire un'altra forma c'è una cosa che mi interessa che non vedo che ancora c'è chi è che la sviluppa eccetera ok quindi un po' cercando di scardinare queste narrazioni molto seducenti anche perché il sistema mediatico o il circo mediatico potremmo chiamarlo se ne fa impossessare in maniera spesso o quasi sempre a critica ed è per questo che spesso userò la parola potere il potere digitale perché comunque quando parliamo di potere quindi chi ha la facoltà di decidere chi ha la facoltà di far fare agli atti quello che desidera e lo trovo una categoria utile proprio per come dire soffiare via questa nebbia propagandistica e andare al nocciolo delle questioni allora il potere del digitale cioè l'impatto che ha il digitale e quindi le conseguenze del digitale sono ormai non dico neanche un ambito di ricerca sono è qualcosa che è studiato trasversalmente da moltissimi campi di ricerca quindi l'impatto del digitale sul pianeta dal punto di vista ambientale l'impatto del digitale sui lavoratori lavoratori delle piattaforme algoritmo che decide tanti aspetti importanti della vita dei lavoratori il digitale nei rapporti internazionali Cina Europa Stati Uniti il digitale sulla democrazia il digitale sui rapporti interpersonali sul benessere psicologico sulle diseguaglianze sull'informazione l'elenco è ormai sterminato e quindi ci sono sarebbe interessante provare a quantificarlo ma una percentuale importante di ricercatori in tanti settori psicologia rapporto internazionale sociologia studi dei media e così via che si occupano del potere del digitale quindi le conseguenze del digitale il digitale viene preso come un dato esogeno un dato tecnico esistente e se ne studiano le conseguenze ok questo è un ambito di ricerca molto importante sono tutti ambiti di ricerca molto importanti ne vedete probabilmente quanto meno i titoli praticamente tutti i giorni l'impatto dello smartphone l'impatto sull'attenzione delle persone le tecnologie digitali a scuola e così via ebbene di questo che ci vorrebbero non so quante centinaia di ore per parlare di questo non parlerò nel senso del potere del digitale le conseguenze del digitale non parlerò perché appunto è impossibile nel tempo dato e poi comunque perché forse tutto sommato se ne parla di più è anche abbastanza più facile e in qualche modo se volete questo è più uno studio della natura della società e poi si va a studiare sul campo quegli strumenti delle scienze umane sociali e anche di scienze dure e quindi questo tutto sommato è più è un terreno più arato invece il potere sul digitale cioè chi controlla il digitale è meno battuto almeno questa è la mia la mia convinzione è meno battuto cioè chi è che controlla il digitale cioè chi è che determina quindi l'evoluzione delle tecnologie digitali e questo mi sembra essendo meno battuto più interessante su questo che mi voglio concentrare di più con voi cominciamo da un dato di fatto fondamentale che vi presento in maniera un po' tranchant ma che proverò ad argomentare un po' cioè le tecnologie digitali sono tecnologie statunitensi ovviamente non sono solo statunitensi men che meno oggi la Cina ma poi anche nella storia del digitale ci troviamo padri nobili europei troviamo esperimenti straordinari come esperimenti della breve esperienza dell'olivetti nell'ambito delle tecnologie digitali negli anni fine anni 50 inizio anni 60 insomma ovviamente possiamo qualificare e dovremmo qualificare in altri contesti in tanti modi però credo che liberi un po' la mente focalizzi un po' la mente prendere atto che il digitale le tecnologie digitali sono in maniera predominante statunitensi ok perché ci aiuta un po' a leggere la realtà in maniera più efficace tra l'altro avessimo tempo potremmo anche chiederci ma perché è così a distanza di 75 anni quasi 76 dal primo calcolatore elettronico che infatti è statunitense l'ENIAC perché è così non abbiamo tempo di approfondire da una parte potrebbe essere ovvio è la potenza egemone e la potenza egemone capisce subito che la tecnologia digitale e il computer sono importanti e quindi li coltiva li sviluppa quindi da un certo punto di vista non è sicuramente sorprendente però potremmo aggiungere ma perché gli altri hanno fatto relativamente poco lasciamolo come domanda e come curiosità in sospesa allora sono 75 anni anzi tra pochi giorni saranno 76 perché nel febbraio del 1946 viene ufficialmente dichiarato operativo il primo calcolatore elettronico l'ENIAC è un calcolatore gigantesco che occupa un'intera stanza consuma moltissime elettricità opera con 18.000 valvole tra l'altro sono un ingegnere lasciatemi dire che è anche un capolavoro dell'ingegneria non soltanto un capolavoro concettuale perché far funzionare questo oggetto era stato veramente una sfida ingegneristica importante allora questo calcolatore che nasce durante la seconda guerra mondiale per esigenze militari e più precisamente le esigenze di fare tavole balistiche per i tanti sistemi d'arma sviluppati durante la seconda guerra mondiale viene quindi con ampi finanziamenti viene sviluppato poi diventa operativo dopo la fine della guerra e ha una caratteristica che viene notata dai decisori politico-militari statunitensi cioè è una macchina che fa calcoli in maniera precisa con una velocità che è ordini di grandezza superiore a qualunque altra cosa preesistente quindi quando hai una macchina prima c'erano calcolatori chiaramente prima meccanici e poi elettromeccanici ma quando riesci a produrre qualcosa che produce risultati in due tre ordini di grandezza superiore rispetto a qualunque tecnologia precedente i decisori illuminati capiscono che questa è una tecnologia strategica una tecnologia che devono possedere e sviluppare e coltivare quindi se volete una risposta parziale al perché è una tecnologia statunitense è perché sviluppano loro il primo grande calcolatore non sono gli unici in parallelo lo fanno anche gli inglesi che sono però in condizioni grame dopo la fine della seconda guerra mondiale i tedeschi che avevano cominciato a fare qualcosa chiaramente rasi al suolo e devono trasferire le loro tecnologie agli Stati Uniti la Francia proverà qualcosa più tardi l'Italia appunto con i rivetti ma gli Stati Uniti nel 46 capiscono che questa tecnologia è decisiva e quindi la mettono subito non soltanto a fare tavole balistiche ma per esempio a fare la modellizzazione per lo sviluppo della bomba H e poi al servizio di una disciplina che era nata durante la seconda guerra mondiale come la logistica la seconda guerra mondiale è una gigantesca operazione logistica pensate agli Stati Uniti che combattono da un certo momento in avanti due guerre una in Europa e una nel Pacifico mobilitando milioni di uomini milioni di mezzi e hanno devono farlo in maniera ottimizzata quindi nasce la logistica moderna e anche l'ottimizzazione moderna e il calcolatore chiaramente è una macchina straordinaria per aiutare anche in quella direzione quindi capiscono che ci sono alcune direzioni importanti e quindi dicono questa tecnologia va protetta e coltivata e lo coltivano grazie a un forte intervento federale perché contrariamente alla retorica liberista che ormai mostra sempre più i limiti della propria capacità di analisi in realtà è il governo federale è il pubblico che coltiva questa tecnologia come tante altre iniettando enormi quantitativi di denaro verso le università verso le aziende che cominciano a produrre calcolatori e così via balzo in avanti al 69 quando vede la luce quella che poi diventerà internet che all'epoca è un progetto pagato con soldi federali chiamato ARPANET e perché scelgo questa data perché qua vuol dire che è la nascita della rete che poi diventerà dominante che collega i computer tra loro quindi prima computer in isolamento poi computer connessi tra loro e la connessione dei computer tra loro è un balzo concettuale straordinario che porta oggi perché oggi quando parliamo di tecnologie digitali tendenzialmente parliamo di computer connessi tra loro che sia uno smartwatch al polso che sia uno smartphone che è di gran lunga il computer più diffuso al mondo che sia il computer che sto usando adesso per questa presentazione quindi nel 69 c'è il punto di partenza ed è un progetto americano e badate che di modalità di connessione di computer tra loro ce ne sono tante ce ne sono tante fino agli inizi anni 90 tra l'altro quasi tutte statunitensi e alla fine il protocollo che si impone è statunitense quindi internet che stiamo usando in questo momento è un protocollo statunitense e qualcuno potrebbe dire non è un caso visto che nel 91 gli Stati Uniti rimangono l'unica potenza mondiale e quindi in maniera abbastanza ovvia il protocollo per far parlare i computer tra di loro al mondo diventa la rete americana internet nel 73 Daniel Bello il famoso sociologo pubblica un libro celeberrimo l'arrivo dalla società postindustriale in copertina c'è in questa edizione del 73 vedete che c'è una scheda perforata che era una modalità di input dei dati dei programmi dei computer dell'epoca e questo ve lo segnalo è l'unico dato come dire culturale perché è l'inizio almeno per il grande pubblico l'inizio della narrazione della narrazione di una società industriale pesante taylorista novecentesca che si avvia a chiudersi perché il futuro sono i servizi e il futuro l'informazione e poi si parlerà del futuro e la conoscenza quindi società della conoscenza eccetera eccetera e cose retoriche che poi diventeranno molto più diffuse negli anni 80 e negli anni 90 anche qui in Europa però il punto di partenza è questo ed è simbolico che in copertina ci sia una tecnologia digitale nell'81 nasce il personal computer abbiamo ricordato l'anniversario il quarantesimo anniversario ad agosto dell'anno scorso personal computer IBM c'erano stati altri personal computer in precedenza ma questo è il personal computer per eccellenza e i computer che ancora usiamo adesso i personal o i desktop sono i nipotini di questa tecnologia e di nuovo è statunitense un colosso dell'informatica come IBM e in questo momento col nascere il personal computer e questo è un aggancio diretto all'attualità c'è quella che mi viene da chiamare la prima corsa al loro digitale cioè grazie al personal computer la nascita quindi di un mercato di computer venduti direttamente ai singoli oltre che alle imprese e alla pubblica amministrazione e quindi al corrispondente nascita di un mercato del software separato dai computer quindi con la nascita di aziende come Microsoft Oracle eccetera c'è una prima grande accumulazione di capitale e infatti vediamo che in quegli anni nascono Microsoft Oracle Adobe Cisco 75 77 82 84 quindi per associare dei nomi Bill Gates Larry Page per indicare le prime due aziende e queste aziende nascono come piccole aziende diciamo startup tipicamente contrariamente di nuovo alla retorica così un po' liberista dell'uomo che si fa da solo molto ben connessi il papà di Bill Gates è un noto avvocato di Seattle che sta nel board di IBM e che quindi ha ben gioco a dire cercate un sistema operativo c'è il mio figliolo che sta facendo una cosa che si chiama MES però a parte questi aspetti qua queste aziende nascono continuano fino ad oggi e sono tra in particolare Microsoft tra le in assoluto tra le più ricche del mondo la capitalizzazione di borsa di Microsoft che in questi due anni di pandemia è cresciuta in maniera strabiliante come quella di Facebook e di Google se ben ricordo l'altro giorno superava i 3 trilioni di dollari quindi sono aziende nate all'epoca come piccola realtà che poi sono cresciute molto negli anni successivi grazie appunto al personal computer e oppure nel caso di Cisco grazie alla diffusione di internet nel 91 questo simpatico signore che è un ricercatore britannico che lavora al CERN di Ginevra si inventa una modalità di pubblicazione di consultazione di contenuti che è chiamata World Wide Web che gira su internet quindi dà per scontato che internet sia disponibile e quindi si inventa il browser per navigare su internet e si inventa il server web per pubblicare e contestualmente c'è un'altra pietra miliare cioè nel 1992 viene autorizzata la prima rete GSM in Italia quindi la telefonia cellulare che c'era già prima digitale GSM è la differenza rispetto a quello che c'era prima che il GSM è digitale sono telefoni ingombranti tipicamente da automobile forse qualcuno che alla metà se li ricorda però sono digitali e come poi rimarranno in tutti gli anni successivi fino ad oggi allora badate che all'epoca si accede a internet con i modem sulla rete telefonica quindi è una velocità d'accesso limitata che permette di mandare email leggere testi scaricare qualche sgranata fotografia ci si può dimenticare l'audio e ci si può completamente dimenticare il video questa è la modalità e i telefoni cellulari qua ho messo uno dei più famosi al mondo un Nokia 2600 venduto più di 135 milioni di esemplari e si diffondono è una tecnologia digitale anche questa ma questi sono ancora telefoni a tutti gli effetti sostanzialmente permettono di fare telefonate persino l'SMS è un'applicazione accidentale che per caso finisce sui telefoni dell'epoca appunto ottimi telefoni che facevano pochissime altre cose sostanzialmente gli SMS attenzione questa tecnologia del telefono cellulare che rimane con noi fino ad oggi per la prima volta nella storia tutti gli spostamenti degli individui vengono tracciati in tempo reale e i loro spostamenti vengono tracciati e memorizzati questo per motivi tecnici perché se ho un telefono in tasca la torre più vicina a cui si aggancia ha l'informazione che sono in quella cella quindi l'operatore telefonico in maniera come dire inevitabile sa che la persona che ha raggiunto comprato il telefono ha comprato il telefono mostrando un documento di identità e questa invece è una scelta politica ha comprato un documento mostrando un documento di identità e in una certa cella Torino-Centro questa informazione che è un'informazione un po' grezza non ha una precisione molto fine di dove è la persona però è senza precedenti e questa informazione che a un certo momento di una certa ora il signor Mario Rossi fosse nella cella Torino-Centro viene memorizzata può venire memorizzata e può venire memorizzata anche per tempi molto lunghi non so se sapete adesso quant'è questo tempo in Italia in Italia adesso questa informazione di dove siamo costantemente perché quasi tutti portano un telefono e una cellulare acceso in tasca viene memorizzata per sei anni e quindi per sei anni qualunque richiesta in teoria autorizzata dalla magistratura può dire dove era chi c'era in quella cella un certo giorno una certa ora oppure dove era la tale persona questo è senza precedenti nella storia perché in precedenza non c'era sicuramente nessun tracciamento di massa ex ante era tecnicamente impossibile se qualcuno voleva sapere dove era il signor Mario Rossi la tecnica era una tecnica molto onerosa perché l'investigatore doveva mettergli il poliziotto in borghese alle costole come si vedono nei film degli anni 30 e 40 e 50 adesso invece no l'investigatore non ce n'è più bisogno c'è una tracciatura di massa costante badate che qua c'è una scelta politica non soltanto di chiedere il documento per avere il telefono ma c'è anche la scelta politica di memorizzare i dati perché in realtà un l'operatore telefonico ha bisogno di sapere dove siamo per fornire il servizio ma non c'è nessuna esigenza di memorizzazione dei dati potrebbe buttarli tutti via quindi questa è una richiesta chiaramente venuta dal potere politico nel 95 internet diventa completamente commerciale internet nasce come rete di ricerca e come tale vietava l'utilizzo commerciale questo divieto si erode inizio anni 90 e poi cade definitivamente senza tanta fanfara nel 95 quindi questo prodotto della ricerca pubblica viene interamente consegnato agli operatori privati che ne volessero fare attività varie quindi a questo punto abbiamo la seconda corsa al loro digitale cioè di quelli che diventano molto molto ricchi e potenti grazie alla nascita di internet che vanno sovrapporsi alle aziende del personal computer che vi dicevo prima e questi sono i nomi di cui parliamo letteralmente tutti i giorni Amazon nasce nel 94 Netflix nel 97 tra l'altro io ero in America nel 97 all'epoca Netflix sapete cosa faceva Netflix nasce permettendo di affittare via posta dvd Netflix inizialmente non ha nulla di digitale se non è il fatto che il dvd è un disco digitale era tutto però fisico si mandavano i dvd e poi si rispedivano indietro via posta Google nel 98 il motore di ricerca Skype poi acquisita da Microsoft nel 2003 Facebook nel 2004 Twitter nel 2006 allora queste aziende quindi presuppongono internet capitalizzano su internet per fare varie cose e diventano tante altre ci provano falliscono queste diventano dominanti di fatto si avvieno a diventare monopoli di fatto anche se ancora non de jure e diventano ricchissime alcune gigantesche come Amazon e Google altre leggermente meno piccole cioè meno grandi come Facebook ancora meno grandi come Twitter ma comunque molto ricche e influenti a inizio secolo ho quasi finito questa carrellata storica a inizio secolo arriva la larga banda che vuol dire non più il modem che vi ho fatto vedere prima ma la capacità di connettersi a velocità elevate quindi vuol dire audio, video eccetera eccetera grazie alla DSL al cavo grazie anche a connessioni wireless sempre più performanti però quasi immediatamente c'è l'11 settembre del 2001 e il corrispondente rapidissimo legge approvata dal Parlamento americano e firmata dal Presidente che è Bush all'epoca che è il Patriot Act il Patriot Act è una legge molto complessa ma all'interno di questa legge si pongono le basi giuridiche per una cosa che era senza precedenti negli Stati Uniti e nel resto del mondo cioè si pongono le basi giuridiche per la sorveglianza di massa cioè col fine di contrastare il terrorismo si autorizza qualcosa che era impensabile in precedenza impensabile dal punto di vista tecnico ed economico ma anche dal punto di vista politico perché la sorveglianza di massa vuol dire implicitamente siete potenzialmente tutti criminali terroristi pedofili eccetera eccetera e quindi dovete essere tutti ex ante spiati e sorvegliati l'approccio fino a quel momento un po' perché imposto dai fatti un po' per motivi invece più nobili di diritti umani democratici era ti sorveglio ex post sospetto che tu abbia commesso un crimine e dunque chiedo alla magistratura di sorvegliarti il telefono sospetto che tu sia un terrorista e dunque autorizza la polizia a pedinarti col Patriot Act invece si ribalta l'approccio e lo sapremo in maniera incontrovertibile poi nel 2013 questo signore Edward Snowden un ricercatore della della più potente agenzia di sorveglianza al mondo che è la National Security Agency che salutiamo il quale rivela una quantità di documenti autentici che dimostrano la realtà di questa sorveglianza di massa confermando cose che nei corridoi ridacchiando dicevano tutti prima del 2013 adesso però grazie a Snowden c'è la conferma definitiva e per questo motivo Snowden ha dovuto fuggire ed è rifugiato ormai da molti anni in Russia con la moglie e lui conferma che Amazon Microsoft Google Microsoft eccetera collaborano attivamente con la National Security Agency per la sorveglianza di massa dei cittadini americani ma in realtà di cittadini in tutto il mondo e badate che quello che emerge è che tutte le telefonate vengono registrate tutti i mail vengono copiati cose che tecnicamente vent'anni prima sarebbero state impossibili ma che dal punto di vista tecnico a questo punto invece sono ed economico sono fattibili e quindi essendo fattibili ed avendo come base giuridica la lotta al terrorismo diventano si fanno nel 2007 nasce viene annunciato lo smartphone che comincia a essere venduto a fine giugno del 2007 lo smartphone è l'ultima pietra migliare che vi presento ed è però assolutamente decisiva perché lo smartphone in questi appena questi 15 anni è diventata la macchina decisiva del ventunesimo secolo dovessimo scegliere la macchina e lo smartphone per tanti motivi lo smartphone cosa fa prende il personal computer e ho messo la stessa foto di prima del personal computer IBM prende il modem quindi la connessione a internet prende il telefono cellulare e li mette tutti insieme per far diventare per creare questo computer portatile che è appunto esemplificato dall'iPhone computer portatile che accidentalmente fa anche telefonate certo fa anche telefonate però fa essendo un computer fa moltissime altre cose questa diventa un successo strabiliante mai nessuna macchina è stata acquisita da così tante persone in così poco tempo è un computer anche se molto più chiuso molto più infedele del personal computer che incidentalmente fa anche telefonate badate che rimane ovviamente il tracciamento automatico della posizione già dei telefoni cellulari a cui però si aggiungono moltissime altre forme di tracciamento nel senso che mentre il telefono Nokia era stupido tra virgolette faceva telefonate e basta e non aveva a bordo molte altre cose lo smartphone è un oggetto estremamente sofisticato ricco di sensori cosa sono i sensori beh una telecamera è un sensore un misuratore di temperatura è un sensore un giroscopio è un sensore e lo smartphone è zeppo di sensori che gli permettono di fare molte cose utili e divertenti che tutti conosciamo ma contemporaneamente vuol dire che lo smartphone a differenza del telefono Nokia ha un microfono e ci sono varie leggende popolari tra l'altro temo piuttosto fondate sul fatto che il microfono sia acceso ascolti anche se teoricamente non lo stiamo usando la telecamera può venire accesa magari da un hacker o magari non da un hacker da qualcun altro pensate a una cosa relativamente banale come il sensore di luminosità tutti gli smartphone hanno un sensore di luminosità che è quello che permette di regolare l'intensità dello schermo a seconda della luminosità ambientale sono in un posto buio lo schermo può essere poco luminoso perché tanto vedo bene lo stesso sono in pieno sole lo schermo viene diventa automaticamente diventa molto visibile in maniera da essere leggibile oppure quando metto il telefono lo appoggio alla guancia si spegne lo schermo per salvare batteria questo è fatto da un semplicissimo sensore che è il misuratore di luminosità ambientale innocuo vero? lo pensavo anch'io fino a quando qualche anno fa dei ricercatori hanno detto sì innocuo cerchiamo di capire un po' meglio e hanno scoperto che il misuratore di luminosità ambientale è sempre acceso può essere utilizzato anche da molte altre app sul telefono perché è considerato innocua come informazione peccato che da questa informazione sia possibile dedurre per esempio a che piano abito come è esposto il mio appartamento quindi l'orientamento dell'appartamento posso stimare anche quanto è grande dell'appartamento quindi da un sensore apparentemente innocuo in realtà incrociando in qualche altro modo ed è abbastanza facile anche la zona della città in cui vivo qualcuno potrebbe cercare di potrebbe capire quanto vale la proprietà immobiliare in cui risiedo e questo si moltiplica per tutti gli altri sensori sostanzialmente la ricerca degli informatici attenti a questi aspetti chiamavoli di privacy che stanno sostanzialmente scoprendo questi sensori che producono dati a bizzeffe presentano tutta una serie di rischi più o meno seri alla dignità e alla riservatezza degli individui totalmente non pensati originariamente per cui si mette un sensore per un'utilità pratica come quella che vi dicevo prima e poi a distanza di 3, 4, 5, 10 anni si scopre che quel sensore in realtà può diventare una fonte di infedeltà abbiamo una macchina infedele in tasca che spiffera cose che francamente preferiremmo essere noi a comunicare quando lo decidiamo noi questo è il numero di smartphone a crescita strabiliante questi sono il numero di smartphone venduti ogni anno quindi un miliardo e mezzo di smartphone venduti all'anno ok? da più o meno dal 2015 quindi all'inizio è un oggetto molto costoso c'era soltanto un'elite della popolazione poi diventano economici e con l'economicità diventano un oggetto di massa perché un miliardo e mezzo all'anno? perché sono oggetti di durata che hanno una vita relativamente breve il tipico smartphone ha una vita circa di tre anni perché poi diventa obsoleto ci cade si rompe non è più non si può più aggiornare il sistema operativo e quindi se ne vendono così tanti e il numero di persone nel mondo che ce l'hanno vediamo la colonia del 2022 di più di sei miliardi e mezzo il che vuol dire che una ampia maggioranza della popolazione mondiale ha uno smartphone rimane ancora più di un miliardo che non ce l'ha però la stragrande maggioranza ce l'ha quindi evidentemente in tutto il mondo in Africa in Asia e così via allora questi numeri e questa incidenza dello smartphone questa rapidità di adozione ne fanno una macchina straordinaria straordinaria da tutti i punti di vista in positivo in negativo positivo perché ha tutte le funzionalità che tutti conosciamo e apprezziamo contemporaneamente non era mai successo che una macchina venisse adottata così rapidamente in tutto il mondo non era successo per il frigorifero non era successo per la radio non era successo per la televisione non era successo per i personal computer è successo per lo smartphone e quindi mi verrebbe lo smartphone è la macchina del ventunesimo secolo almeno di questa prima metà del ventunesimo secolo questi sono semplicemente non sto soffermando i produttori sono una manciata di produttori sono circa cinque produttori principali Apple Samsung Huawei qualche giapponese che ha preso il posto di Huawei visto l'embargo fatto degli americani qual è la tendenza attuale è lo smart tutto quindi c'è lo smartphone ma a valle dello smartphone c'è poi lo smart tutto cioè lo smart watch gli smart glasses le telecamere smart i vari dispositivi in casa le lavatrici i tostapane i frigoriferi i smart gli assistenti personali che la gente si mette in casa come Alexa Google Home e così via quindi la tendenza è a introdurre computer miniaturizzati ovunque cosa che tecnicamente ed economicamente è possibile fare quindi la smartificazione di tutto usando un altro termine potremmo dire la computerizzazione del mondo laddove c'è la possibilità di inserire un computer che va a svolgere una funzionalità ufficiale utile che qualcuno ritiene utile ma che contemporaneamente diventa un bocchettone per l'acquisizione e la produzione di dati si fa quindi sostanzialmente se io dovessi leggerlo facendo un po' di come dire di processo induttivo dovessi interpretare quello che sta capitando in questi anni è che c'è evidentemente un grande desiderio di acquisire più dati possibili dagli esseri umani dagli ambienti in cui operano dai cassometti dell'immondizia dai mezzi pubblici dai computer che usano i lavoratori dai computer che usano gli studenti in DAD da tutto e quindi la spinta sicuramente a vendere computer e a vendere smartphone ma quello non c'è bisogno di spingere la gente lo fa in maniera spontanea quelle che possono permetterselo ma in più iniettiamo computer ovunque e quindi giriamo per la città e ci sono telecamere che prima erano stupide adesso stanno diventando progressivamente intelligenti cosa vuol dire intelligenti? vuol dire che non soltanto riprendono un riquadro video ma possono dire in questo riquadro video c'è qualcuno con una giacca rossa? tipica motivazione per combattere il crimine è stato commesso un crimine ci dicono che aveva la giacca rossa telecamere della città di Milano ditemi dove ci sono le persone con una giacca rossa questo è un esempio di telecamere intelligente eccetera eccetera quindi una progressiva digitalizzazione degli spazi degli ambienti delle persone e riguardo le persone la spinta evidente è avere cose addosso alla nostra pelle al nostro corpo biologico lo smartphone è vicino a noi lo tocchiamo in continuazione ma vogliono il nostro battito cardiaco vogliono la tensione superficiale della pelle e questo si ottiene solo con un contatto fisico continuo e quindi lo smartwatch o gli smart glasses ok allora quello che mi interessa parlando del quindi di tutte queste cose che ho raccontato è tutte queste cose già successe quelle che stanno succedendo e quelle che succederanno chiederci ma fatte da chi fatte come con quali mezzi fatte a vantaggio di chi e con quali conseguenze la narrativa è tutto diventa smart perché smart è una parola bella chi è che può essere contro lo smart questa è una chiara tattica comunicativa di seduzione ma noi potremmo dire ma 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 no smart perché quali sono le conseguenze di questa cosa o o ancora ok viene presentato in questo modo ma potrebbe anche essere fatto in quest'altro modo perché non si potrebbe fare in quest'altro modo e poi in caso di conseguenze negative di questa cosa smart che ci viene presentata chi ne risponde insomma un atteggiamento un po' più distaccato critico nei confronti della tecnologia digitale e potremmo dire di qualunque tecnologia digitale non ha nulla di ontologicamente differente però essendo la tecnologia accardi nel ventunesimo secolo è chiaro che l'attenzione deve essere più alta oggi 2021 quindi il presidente in carica del paese di riferimento delle tecnologie digitali abbiamo e i numeri in realtà dovrei aggiungere rifare questa slide in continuazione perché qua c'è la capitalizzazione di borsa dell'aprile del 21 di Apple Microsoft delle più importanti aziende e questo è un grafico del Financial Times e in realtà sono ancora tutte cresciute è stato un aumento della capitalizzazione di borsa delle aziende grandi aziende tecnologiche vedete che in questa top 20 ci sono moltissime aziende tecnologiche perché c'è Apple Microsoft Amazon Google Facebook Tencent cinese Tesla che è un motore elettrico più software Alibaba Taiwan Semiconductor Samsung Visa che in buona parte è digitale e poi ancora Nvidia che è l'ultima ebbene questa è la capitalizzazione di borsa sono nell'ordine di grandezza delle migliaia di miliardi ed è strabiliante perché nella storia del capitalismo mondiale non ci sono mai state aziende con questa capitalizzazione di borsa ovviamente questo elevato valore dipende da tanti fattori in primis il fatto che le banche centrali stiano pompandoli liquidità da 15 anni in maniera strabiliante quindi è chiaro che c'è un sacco di liquidità ed è molti investitori quindi puntano sul cavallo digitale pensando che sia probabilmente correttamente il cavallo dominante del ventunesimo secolo come in passato erano le automobili o il petrolio vi faccio vedere questo grafico non è leggibilissimo ma ve lo descrivo c'è una torretta colorata a sinistra del 2005 che sono le prime dieci grandi aziende per capitalizzazione di borsa nel 2005 non stiamo parlando di un tempo come dire di un remoto passato e sono ve le leggo nel caso non la leggete General Electric con 382 milioni ExxonMobil 381 Microsoft che c'era già 263 milioni Citigroup 234 British Petroleum 221 Walmart 212 Royal Dutch Shell 211 Johnson & Johnson 200 siamo nel 2005 però è un quadro chiaramente novecentesco c'è il petrolio grande retail come Walmart c'è Microsoft che appunto era la prima corsa a loro banche come Citigroup è un grande gigante industriale nato all'inizio del novecento come General Electric che fa un po' di tutto la torretta destra invece è 2020 e come vi dicevo i valori assoluti vanno ulteriormente aggiornati e sono tutti blu tranne uno blu vuol dire tecnologia big tech digitale perché sono Apple Amazon Microsoft Alphabet cioè Google Facebook Alibaba Tencent ok c'è soltanto Saudi Aramco quindi il produttore petrolifico dell'Arabia Saudita e quindi sono tutte tecnologie sono tutti americane tranne Alibaba e Tencent cinesi e i valori assoluti sono cresciuti di un ordine di grandezza quindi la faccia del capitalismo è cambiata nel giro di 15 anni è un capitalismo diverso non è che siano scomparse General Electric e ExxonMobil ci sono ancora non hanno la capacità di mobilitare i capitali che hanno queste grandi aziende più tante altre cose non hanno General Electric non ha a che fare con un miliardo e mezzo di persone tutti i giorni come Facebook quindi c'è un'altra forma di potere non c'è soltanto il potere legato alla capitalizzazione di borsa in questo da rapido accendo durante la pandemia queste aziende hanno profittato in maniera strabiliante perché perché ci siamo tutti trovati a dover ricordare i loro servizi ora stiamo usando Zoom che è un'azienda relativamente più piccola però moltissimi altri hanno usato Google Microsoft e così via per fare la didattica per lavorare per fare incontri come questo e abbiamo venduto ancora più tablet ancora più smartphone ancora più computer perché improvvisamente magari una famiglia dovrà trovare più schermi simultanei per permettere ai figli di di connettersi con i docenti e quindi la loro capitalizzazione di borsa è ancora cresciuta hanno vinto alla grande questo è un grafico aggiornato a qualche mese fa dove si vede la crescita della capitalizzazione di borsa al 2013 a oggi e si vede chiaramente il picco della pandemia quei colori fanno riferimento a Facebook Google Amazon Microsoft Apple e vedete il picco che è ulteriormente cresciuto in questi ultimi mesi quindi ecco perché vi ho detto all'inizio in maniera transcian il digitale è Stati Uniti perché anche le grandi imprese dominanti sono statunitensi e le uniche altre comparabili sono cinesi come Tencent e Alibaba in tutto questo è abbastanza naturale che sia l'Europa visto che non c'è in tutte quelle classifiche quando vi ho fatto vedere le prime eventi al mondo della Financial Times c'era solo un'europea il mega gruppo del lusso di Louis Vuitton ok quella è l'unica azienda europea per capitalizzazione di borsa nelle prime eventi non esattamente high tech allora nessuna impresa europea tra le big tech e tra le prime eventi appunto soltanto il conglomerato Louis Vuitton inoltre l'Europa molto debole per quello che riguarda quattro componenti digitali poco la moda quindi non rientrano nelle ondate mediatiche di cui sopra ma essenziali vado un po' veloce per non per non darvi travolgervi di troppi elementi però questi quattro elementi sono i microprocessori quindi il cuore dei computer il cervellino che fa i calcoli dentro lo smartphone o dentro il computer che sto usando adesso le fonderie di silicio cioè le fabbriche modernissime che producono i microprocessori e i circuiti integrati i sistemi operativi quindi Windows che è ancora assolutamente dominante sui personal computer Mac OS e poi fondamentali Android e iOS per gli smartphone i grandi centri dati chiamati mega hyper centri dati quindi questi giganteschi fabbriche perché sono delle fabbriche solo per l'input e l'output sono bit più energia più acqua queste grandi fabbriche che permettono quando uno fa una ricerca su Google di avere il risultato in frazioni di secondo come mai è così veloce la ricerca su Google perché se vado su Facebook è veloce e risponde in maniera rapida perché non lontano da dove siamo noi c'è un grande centro dati quindi grande decine di campi da calcio con dentro decine di migliaia di computer che elaborano le richieste di miliardi di persone simultanee e quindi danno queste impressioni di grande rapidità e quarto punto i cavi sottomarini la stragrande maggioranza del traffico mondiale non passa via satellite passa una tecnologia che ha più di 150 anni cioè i cavi sottomarini che vengono vengono il primo cavo sottomarino operativo nel transatlantico del 1861 che serve per trasportare il segnale telegrafico e poi sarà il segnale telefonico poi segnali dati e così via e oggi trasporta traffico internet che sono una infrastruttura cruciale ebbene l'Europa in queste quattro cose e potremmo l'elenco potrebbe essere più lunga è molto debole perché non produce microprocessori è un duopolio statunitense a seguire ci sono le slide che argomentano meglio quello che sto per dirvi ma le salteresse siete d'accordo per evitare di mettere troppa carne al fuoco però ve lo riassumo io microprocessori sono due un duopolio statunitense Intel e AMD dove Intel è largamente predominante e le fonderie di silice avanzato quelle che fanno il chip che sta dentro l'iPhone o appunto i microprocessori di Intel e AMD sono soltanto due aziende del mondo una in Corea del Sud Samsung e l'altra a Taiwan di SMC quindi anche gli americani a un certo punto hanno trovato economicamente più conveniente dare la fusione del silicio loro fanno la progettazione ma poi danno la fabbricazione fisica a Taiwan o Sud Corea cosa che adesso hanno capito che forse non è esattamente dal punto di vista della sicurezza il massimo e quindi hanno cominciato Intel ha ottenuto grandi finanziamenti pubblici per fare grandi fabbriche di Stato dell'Arte ne faranno una gigantesca vicino a Columbus in Ohio e pare anche una in Europa sistemi operativi vi abbiamo già detto monopolio di Microsoft nei computer al 90% del mercato e quel che resta di Apple e poi duopolio Android e iOS quindi Google e Apple per gli smartphone i grandi centri dati sono dei big tech quindi i grandissimi centri dati sono di Amazon di Apple di Google e così via e ironicamente anche i costruttori di centri dati quindi quelli che costruiscono queste gigantesche fabbriche digitali sono americani e giapponesi ce ne sono in Europa sì certo che ci sono perché hanno bisogno di raggiungere gli utenti in Europa ma sono possedute da loro sono costruite da aziende tipicamente americane e giapponesi lasciando noi le cose come dire a meno valore aggiunto e poi servono al loro business in Europa e i cavi sottomarini che una volta venivano posati dai grandi operatori di telecomunicazioni adesso vengono posati direttamente da Microsoft Amazon Google Google eccetera perché uno sviluppo di questi ultimi anni è che mentre prima quando si parlava e fa tenerezza dirlo dei cosiddetti over the top Amazon Google eccetera Facebook che sfruttavano le reti delle povere aziende di telecomunicazione europee ora l'infrastruttura se la stanno costruendo loro quindi non hanno neanche più bisogno di rivolgersi agli operatori di telecomunicazione hanno i loro cavi sottomarini e utilizzano Team e gli altri operatori europei soltanto per l'ultimo pezzetto per raggiungere gli utenti e si gestiscono loro le grane delle bollette dei pagamenti e quindi un aspetto tutto sommato per loro poco interessanti qua trovate quello che ho detto a voce ma che appunto salterei un piccolo curiosità c'è un'azienda olandese che è cruciale per fare i semiconduttori avanzati nessuno la conosce si chiama SML però è un'azienda importante ha 14 miliardi di fatturato quindi relativamente piccola rispetto a Amazon Google eccetera però è una macchina che fa dei laser speciali per incidere il sedicio e di fatto ha il monopolio quindi le due fonderie che vi dicevo TMSC e Samsung devono avere queste macchine e infatti Trump quando ha voluto punire la Cina ha posto un embargo alla fornitura di queste macchine alla Cina e così facendo ha precluso la possibilità della Cina di sviluppare silicio avanzato sistema operativi quello che avevo detto questo è Windows che è l'80% del mercato e quello che rimane comunque è statunitense questo è il mercato del sistema operativi per gli smartphone la linea blu è Android con più dell'80% e la linea nera è Apple e quindi è un duopolio statunitense lasciamo perdere il resto e megacentri dati su circa 400 in tutto il mondo posseduti da queste grandi aziende e che quindi anche in questo in queste grandi fabbriche digitali che sono un po' il seguito delle grandi fabbriche novecentesche sono possedute dagli Stati Uniti e anche i produttori sono appunto sono Cisco Dell Fujitsu Spacker dell'Intel che producono questi grandi megacenter i cavi sottomarini direttamente posati dai B-Tech come vi dicevo prima e come vedete questo è un articolo relativamente recente ottobre del 2011 il piano di Facebook e di Google possedere internet intendendo possedere l'infrastruttura di internet e a questo punto sono verticalmente integrati hanno i servizi e hanno l'infrastruttura e raggiungono direttamente l'utente finale tirando le somme progressiva computerizzazione del mondo portato in avanti in larga parte da alcune grandissime imprese statunitensi in maniera fortemente centralizzata i bit che produciamo finiscono là questo lo sto sottolineando lo sto enfatizzando perché dal punto di vista tecnico non è affatto necessario che sia così dal punto di vista tecnico molti di questi bit potrebbero restare sui nostri dispositivi e andare dove diciamo noi invece tutto costruito attentamente perché tutto finisca alle case madri il vantaggio acquisito tra i big tech americani è sicuramente economico abbiamo visto i numeri prima è di know-how tecnico che non è nulla di incredibilmente esoterico potremmo avere teoricamente risorse in Italia in Francia in Germania come know-how tecnico-scientifico ma sicuramente loro sono stato dell'arte ed è crucialmente dei dati sono 20 anni 25 che incamorano dati e questo lo sottolineo lo enfatizzo perché pensate a Google motore di ricerca immaginate la classica retorica il classico mito dei ragazzotti che hanno un'idea geniale hanno un algoritmo geniale per fare ricerche su internet e quindi vogliono fare concorrenza a Google ok possono ma Google ha 25 anni di storia di ricerche su internet Google sa con una discreta precisione gli abitanti dello Sri Lanka che cosa cercano su internet come reagiscono alle ricerche e quindi possono come dire customizzare in maniera attenta le ricerche che provengono dello Sri Lanka apposta per loro e potrei andare avanti sanno le persone io ho 55 anni le persone di 55 anni con un certo profilo che abitano nell'Europa del Sud che cosa cercano come reagiscono le ricerche hanno 25 anni di dati ok quindi tutto il mondo per miliardi di utenti l'ipotetica aziendina che nasce che vi dicevo prima non ce li ha non ce li ha e questo è un svantaggio che mi verrebbe tranquillamente da dire che è incolmabile quindi bisogna intervenire su quei dati e infatti non a caso ormai da qualche anno si come dire le proposte che stanno progressivamente da essere totalmente estremiste diventando progressivamente più mainstream dicono quei dati devono essere aperti quei dati devono essere accessibili all'ipotetica piccola azienda che vuole fare concorrenza a Google collaborazione tra queste imprese e governi per la sorveglianza che vi dicevo prima di massa e a me viene da sospettare anche per dar forma all'opinione pubblica qua non voglio entrare in un campo come dire di illazioni pure però le grandi aziende di comunicazione hanno sempre avuto come dire sono sempre state molto attentamente studiate se non direttamente controllate dal potere politico anche per motivi del tutto legittimi pensate alla radio e alla televisione nascono la prima stazione radio nasce esattamente cento anni fa all'inizio del 1922 il primo discorso alla radio di un presidente americano è di pochi mesi dopo e negli anni successivi tutti sappiamo la radio il ruolo che ha avuto anche nella data al potere di Hitler e poi della regione nazista il primo grande mass media successivo ai giornali e poi la televisione allora momento in cui sei miliardi e mezzo di persone guardano lo smartphone si stima centinaia di volte al giorno vogliamo pensare che il potere politico legittimamente o meno legittimamente per motivi nobili o per motivi meno nobili non si è interessato a quantomeno avere un'influenza su quello che compare su quegli schermi mi sembra molto ingenuo pensare che non capiti in un modo o nell'altro e d'altronde sono anni che l'Unione Europea e i singoli governi premono sui grandi operatori Facebook e Google in particolare e Twitter anche per fare o non fare certe cose tipicamente sono cose su cui tutti sono d'accordo contrastare il terrorismo eccetera ma sono anche cose che se gli stati volessero fare delle leggi esplicite per contrastare certe forme di comunicazione molto probabilmente le corte costituzionali in nome della libertà di espressione limiterebbero o addirittura approcherebbero queste norme invece si sceglie la strada di dire Google Facebook Twitter tu che sei un attore privato fallo per noi che è una strada a mio avviso scivolosa enorme concentrazione di potere evidente da tutto quello che vi ho raccontato fino adesso queste aziende rappresentano una straordinaria concentrazione di potere questo fosse il dato politico più importante in assoluto in questo contesto forte subalternità dell'Europa e non parliamo dell'Italia vi dirò poi due cose specificamente sull'Italia ai discorsi sulla sovranità digitale che vanno di moda da quando c'è la commissione della baronessa von der Leyen finora non corrispondono affatto azioni dell'ambizione necessaria perché le azioni dell'ambizione necessaria dovrebbero essere molti più soldi di quelli che hanno messo sul tavolo anche con il cosiddetto Next Generation Europe o PNRR che badate in un paese come l'Italia rischia di voler dire spendere un sacco di soldi per il digitale per acquistare prodotti e servizi fatti negli Stati Uniti o in alcuni casi in Corea o in Giappone quindi l'Europa sta parlando molto di sovranità digitale ma a mio avviso l'entità delle azioni messe in campo è ancora un ordine di grandezza inferiore a quello che dovrebbe e appunto premo chiederci come mai sull'Italia e concludo allora vale tutto quanto detto per l'Europa tutte le riflessioni fatte fino adesso si applicano direttamente all'Italia con alcune ben note aggravanti non sono sicuramente uno che coltiva l'autorazzismo anzi lo trovo un difetto degli italiani spregevole l'autorazzismo però contemporaneamente dobbiamo essere realisti e capire quali sono i limiti del nostro paese nel digitale siamo tra gli ultimi in Europa questo da sempre siamo nelle classifiche tipicamente poco prima di Bulgaria Romania eccetera paesi che oggettivamente sono meno ricchi e hanno profili di sviluppo anche industriale inferiore a noi questo è l'ultimo dato di una classifica della commissione europea chiamata Digital Economy and Society Index dove mette insieme servizi pubblici digitale integrazione della tecnologia digitale la connettività e il capitale umano quindi la conoscenza dei lavoratori delle tecnologie digitali e l'Italia è ventesima dopo di noi siamo davanti a Cipro Slovacchia Ungheria Polonia Estò no El che cos'è la El non mi ricordo Bulgaria e Romania ok quindi lontanissimi da Danimarca Finlandia Svezia Olanda Irlanda che vedete in cima alla classifica e anche parecchio indietro anche sorbalmente alla Francia che parecchie posizioni avanti a noi quindi sotto chiaramente sotto media europea questo è così sistema e poi intanto miglioriamo leggermente una volta eravamo a quart'ultimi adesso siamo invece un pochino meglio però siamo molto indietro perché allora tanti anni che sento partecipo a discussioni e seguo queste discussioni sul perché siamo indietro nel digitale allora in genere la riflessione si concentra solo sul digitale settorialmente sul digitale come se come se fossimo improvvisamente tutti ciechi e sciocchi e sul digitale non studiassimo non integrassimo non facessimo e così via non è quello che penso cioè gli italiani sono un popolo intelligente quanto chiunque altro non è che siano stupidi sono dobbiamo guardare invece alla struttura in particolare ad alcuni aspetti della struttura del nostro paese per capire perché siamo indietro nel digitale come su altre cose non è che siamo indietro solo sul digitale ok quindi l'eccezionalismo digitale va contrastato sia nelle soluzioni proposte sia nell'analisi allora un aspetto importante sono le capacità cognitive che citavo prima sul relativamente anche all'Europa capacità cognitive vuol dire tante cose quando dico capacità cognitive dico per esempio che negli Stati Uniti il calcolatore elettronico l'ENIAC non stava ancora funzionando nel febbraio del 46 che già una fondazione privata che era la Macy's Foundation si poneva delle domande apparentemente astratte e realistiche chiedendosi ma queste macchine potranno saranno simili al cervello queste macchine potranno tradurre le lingue queste macchine cioè si interrogavano sulle potenzialità di una macchina che faceva calcoli rapidamente ma che si era subito capito che fare calcoli rapidamente vuol dire poter manipolare simboli rapidamente quindi gli Stati Uniti fanno un investimento per capire per ragionare sui computer in maniera fortemente interdisciplinare fin dall'inizio si chiedono quali sono le implicazioni per la salute quali sono le implicazioni per l'educazione se lo chiedono nel 61 nel 58 nel 63 con grandissimo anticipo rispetto all'Europa e non parliamo all'Italia ok cioè intuiscono che macchine che manipolano simboli rapidamente sono macchine che possono avere un impatto trasversale sulla salute sul militare su tutto e quindi sviluppano una cultura del digitale molto molto avanzata che secondo me è una delle precondizioni per l'enorme egemonia americana in questo momento non è solo questione di soldi non è solo questione di portaerei è una questione culturale gli Stati Uniti sono 100 anni e più che investono in cultura in senso lato il doppio il triplo dell'Europa e l'hanno fatto anche in ambito digitale però tornando all'Italia l'Italia è un paese con un ritardo educativo di istruzione storico che non abbiamo mai colmato completamente l'Italia nel 1861 nasce l'Italia come stato unitario e abbiamo il 90% dell'analfabetismo che è molto superiore a tutto quello che sta sopra le Alpi Austria Svizzera Germania Francia eccetera quel ritardo viene un pochino colmato nei 30 anni dopo l'Unità d'Italia poi grande balzo dopo la Repubblica ma il gap continua a rimanere quindi se guardiamo per esempio il numero dei laureati famosamente il numero su cui spesso si discute abbiamo un tasso di laureati anche tra i giovani anche tra i giovani che è 20 punti inferiore alla media europea allora perché sottolineo questo aspetto perché quando mi sento dire e mi capita di sentirlo dire da ministri in gruppi di lavoro eccetera dobbiamo andare a spiegare agli imprenditori che cos'è l'intelligenza artificiale e si dice allora cosa potremmo fare andiamo a spiegare l'intelligenza artificiale certo si può anche fare l'iniziativa per andare a spiegare agli imprenditori l'intelligenza artificiale dopodiché dovremmo andargli spiegare il big data dopodiché dovremmo andargli spiegare progressivamente tante altre cose ma la vera radice è che abbiamo imprenditori e manager che hanno un livello di istruzione drasticamente inferiore ai loro omologhi nel resto d'Europa non dobbiamo dargli spiegare noi informatici di intelligenza artificiale devono essere loro in grado di capire quello che gli serve e poi semmai sono esigenze specifiche venire a chiedere capite abbiamo bisogno che ci sia un livello medio più alto in generale in maniera tale che poi il digitale abbiano gli strumenti per capire che cos'è se gli serve o se non gli serve capite e in parallelo ricerca 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 l'Italia investe ricerca e sviluppo sia nel pubblico che nel privato e meno male che esiste il pubblico investe frazioni di quello che investe la Germania questo o la Svezia o l'Inghilterra o la Francia eccetera e non parliamo dei Stati Uniti o del Giappone anche questo conta perché se abbiamo un tasso di ricercatori che è infinitamente più basso della Germania vuol dire che non ho in azienda o non nella pubblica amministrazione chi potrebbe aiutarmi a capire ma mi serve o non mi serve l'intelligenza artificiale quindi c'è una povertà dentro le imprese dentro la pubblica amministrazione dovuta anche al fatto che noi ricercatori sono pochi e quei pochi non trovano lavoro e se ne vanno all'estero quindi un sistema produttivo italiano come ci dicono tutti quanti gli economisti a tasso di conoscenza medio basso noi siamo un grande paese industriale ancora nonostante le catastrofi di questi ultimi lustri quindi tra l'altro da qualche anno esportiamo in maniera notevole ma complessivamente il nostro sistema produttivo pur avendo delle punte di eccellenza e meno male che ce le abbiamo ma la media è a tasso di conoscenza medio basso e questo vuol dire che appunto allora non ho bisogno di ricerca non ho bisogno di ricercatori non ho bisogno di un livello di istruzione elevato posso fare l'imprenditore con la licenza media ma dove ovviamente nessuno come dire vuole disprezzare chi ha la licenza media diciamo semplicemente che per il sistema produttivo nel suo complesso sarebbe meglio il livello di istruzione di tutti dagli imprenditori manager ai lavoratori più elevato quindi appunto ricerca e i bassi investimenti di questi ultimi vent'anni sono una catastrofe il crollo degli investimenti sia privati sia pubblici pubblici soprattutto dal governo monti in avanti e privati da ancora prima è drammatico perché di cosa stiamo parlando di tecnologie avanzate di digitale se trasversalmente gli investimenti sono crollati per motivi razionali per politiche pubbliche sciagurate nel caso del pubblico per motivi e per i privati perché abbiamo ucciso la domanda interna e uccidendo la domanda interna si preferisce comprimere i salari piuttosto che fare investimenti che evidentemente si ritiene che non restituiscano un ritorno sul profitto adeguato quindi dovessi guardare uscire un pochino dal quotidiano dovrei dire prendiamoci cura dei fondamentali il digitale e tante altre cose verranno da sé l'Italia ha bisogno nel campo almeno in questo ambito di ricerca e di istruzione di un grande piano per i prossimi 10-20 anni per alzare il livello medio di istruzione come tutti sapete abbiamo fatto il contrario cioè abbiamo tagliato la scuola e tagliato l'università invece si fa un'iniziativa ad hoc l'iniziativa ad hoc possono anche essere utili vuoi portare internet nell'appennino ma certo portiamo internet nell'appennino nelle Alpi auguriamoci se non sono contrario ma rimane ad hoc perché non cambiamo il quadro generale il quadro generale è difficile cambiarlo quindi si preferisce non parlarne tornando a livello generale concludo che fare allora innanzitutto nel digitale nulla di umano è irreversibile nel digitale ma in generale nulla di umano è irreversibile c'è egemonia dell'estate unitense non è un dato di natura è stata costruita e quindi potremmo fare alcune azioni l'elenco per punti e poi se volete possiamo discuterne finita questa presentazione qualcuno potrebbe dirmi ma qual è la giusta direzione la giusta direzione relativamente alla tecnologia se chiedete a me è questa tecnologia a servizio dei molti per richiamare la famosa contrapposizione scegliana dei pochi dei molti con l'obiettivo primario di restituire tempo alle persone la tecnologia dovrebbe servire a rendere il lavoro meno pericoloso meno alienante meno difficile e in generale darci tempo poco meno di cento anni fa il grande minor Keynes preconizzava estrapolava la tendenza della produttività e diceva nel 2000 lavoreremo 15 ore alla settimana se non è successo non è perché la tecnologia non è evoluta è successo per tutti altri motivi noi vogliamo e sarebbe del tutto legittimo e normale dire lavoriamo 15 ore alla settimana perché la tecnologia è aumentata la produttività in maniera così strabiliante che potremmo benissimo farlo punto 1 controllo democratico della tecnologia la tecnologia come qualunque altra cosa è un prodotto dell'uomo e in linea di principio dovrebbe sottostare in una democrazia al controllo democratico tutti noi sappiamo che non è così la tecnologia viene messa in campo si rispettano le normative e neanche sempre sulla sicurezza e dopodiché 5, 10, 15 20 anni dopo in alcuni casi 80 anni dopo la democrazia si fa sentire e la regola cito un caso su tutti l'amianto l'amianto è stato si ipotizza il pericolo dell'amianto per i lavoratori alla fine dell'ottocento viene regolato primo paese in Europa dall'Italia nel vado a memoria nel 93 1993 quindi lo presento così e sembra quasi una cosa banale e ovvia ma in realtà è rivoluzionaria il controllo democratico della tecnologia è rivoluzionario sottolineo qua è semplicemente un quadretto per dire le conseguenze valutare più e contro decidere di proseguire o meno cosa abbastanza molto standard per dire le conseguenze valutare pro e contro se si decide di procedere definire i tempi modi contrastare gli impatti negativi monitorare gli sviluppi e intervenire se necessario anche questo apparentemente normale ma anche questo profondamente lontano dalla realtà ok sottolineo il se dobbiamo sempre preservare il diritto di decidere di non mettere in campo una determinata tecnologia ok allora questo è molto importante perché in ambito digitale badate che si sta rafforzando sempre di più la posizione relativamente ai dati di dire ma in certi casi la scelta giusta è non raccogliere quei dati e non generare quei dati poi una volta che li hai raccolti gli acquisiti c'è tutta la questione di ma come li tratto la privacy e così via ma in alcuni casi non dobbiamo acquisirli esempio su tutti no riconoscimento facciale in luoghi pubblici e no le armi dettagli autonome ok riconoscimento facciale in luoghi pubblici vuol dire telecamere in giro per la città dove voi passeggiate e automaticamente vi identificano Mario Rossi è davanti al numero 12 di Piazza Vittorio ok questo per tutta una serie di motivi che non abbiamo il tempo di affrontare c'è un coro sempre più ampio di persone me incluso che dicono questo va semplicemente proibito diritti digitali lasciatemi ricordare la dichiarazione di diritti in internet prodotta sotto l'autorevole guida di Stefano Rodottano nel 2015 una dichiarazione in 13 articoli che direi che ha retto molto bene i tempi questi sette anni che sono trascorsi da allora la trovate facilmente online se vi interessa i diritti non sono la panacea per risolvere tutto ma possono essere una freccia nell'arco di chi combatte per un mondo digitale migliore ovviamente radicale azioni di diffusione del potere delle imprese dominanti abbiamo una concentrazione di potere strabiliante e quindi abbiamo come è già stato fatto cento anni fa con la standard oil di Rockefeller e con tanti altri grandi e potentissime imprese si possono sicuramente contrastare gli strumenti ci sono scorporare divieto di sussidi incrociati divieto di acquisizioni di trasparenza molto superiore possibilità di ispezione condivisione dei dati insomma tutti gli strumenti possibili su questo vi rimando a una lezione di un grande esperto che è Tommaso Valletti che insegna a Londra un torinese espatriato da anni a Londra che ha fatto una bellissima lezione per Biennale Democrazia a ottobre dove parla esattamente di questo lui è stato il chief economist del direttorato competizione della Commissione Europea e quindi sa di cosa parla e quindi in questa lezione di tre quarti d'ora trovate da una persona infinitamente più competente di me elencato che cosa concretamente si potrebbe fare domani se si volesse ok poi scusate è molto ampio ma radicale rafforzamento della ricerca pubblica e delle capacità cognitive organizzative e produttive dello Stato lo dico adesso a due anni quasi due anni dall'inizio della pandemia come dicevamo prima che iniziasse l'incontro e sembra quasi terribilmente ingenuo perché tutti noi stiamo vedendo la clamorosa disorganizzazione dello Stato non solo quello italiano tra l'altro è anche abbastanza interessante come elemento anche la Germania anche la Francia anche la Svizzera anche gli Stati Uniti lo Stato si è clamorosamente impoverito in questo ultimo mezzo secolo non riusciamo a fare a due anni dall'inizio della pandemia parlo per esperienza diretta e testa i bambini e gli elementari perché a due anni dall'inizio della pandemia non ci si è ancora organizzati per fare dei test semplicissimi figuriamoci capacità cognitive organizzative e produttive per contrastare queste enormi concentrazioni di capitale privato però dobbiamo anche dirci qual è la direzione per quanto Don Quixottesca possa sembrare in questo preciso momento storico e favorire soluzioni tecniche questo è il dato più possibile decentrate diffuse federate che non sono neanche loro la panacea perché in alcuni casi invece la soluzione centralizzata è anche quella giusta però se la soluzione è centralizzata allora che sia centralizzata sotto un controllo democratico e non centralizzata sotto un dominio privato ultimissimo punto nutrire l'immaginazione un altro mondo digitale è possibile riprendendo il motto del World Social Forum noi tecnici abbiamo il dovere di mettere al servizio della collettività e non solo delle imprese come invece tendiamo a fare la nostra capacità di immaginare la tecnologia il digitale in particolare è una tecnologia molto fluida vedete la schermata in questo momento che ha certi tasti e certe funzionalità ne potrebbe avere altre basta scrivere il codice corrispondente i smartphone hanno certi sensori potrebbero averli non averli potrebbero averne altri i dati potrebbero restare da noi invece che andare ai silicon valley insomma le cose potrebbero essere anche drasticamente differenti ma siamo noi che dobbiamo parlare con tutti gli altri e dire è possibile molto spesso le aziende dicono ah no è impossibile e noi abbiamo invece la competenza tecnica per dire mentite è possibile grazie molte grazie grazie a lei professore grazie a lei francamente di grandissimo interesse riesco Maurizio se riesco eccoci ci rivediamo benissimo posso fare solo una battuta per dare la parola devo dire che è la prima volta che discuto con un informatico che chiude una sua lezione con riferimento al social forum io sono molto colpito di questa cosa sono molto colpito mi ha molto affascinato questa cosa abbiamo avuto lunghi percorsi di discussione su questo ma questa è la prima volta che sento come articolare così profondamente l'idea che si può affrontare queste cose anche con uno sguardo nuovo quindi davvero esprimeremo un ringraziamento profondissimo professore Juan Carlos De Martini adesso vorrei dare la parola ai nostri interlocutori c'è già Sara Mancini che vedo che sei iscritta prego Sara buongiorno a tutti io mi occupo di uso etico e responsabile delle tecnologie da diversi anni quindi innanzitutto voglio ringraziare il professore perché l'intervento è stato veramente di una chiarezza e semplicità di comprensione che raramente ho visto nel campo di cui mi occupo quindi intanto grazie allora alcuni temi sicuramente la commissione europea è conscia dei rischi o comunque delle problematiche che ha esposto infatti ha iniziato diverse iniziative per appunto contrastare il monopolio e la colonizzazione statunitense europea su queste tematiche ad esempio vengono in mente Gaia X o i data spaces che si stanno iniziando a creare e anche ultimamente ha pubblicato l'anno scorso circa la bozza di regolamentazione sull'intelligenza artificiale volevo quindi un suo commento su queste iniziative che comunque concordo lo scetticismo in quanto gli investimenti non sono comunque adeguati però anche un po' sull'approccio che viene chiamato The European Way anche e soprattutto sull'intelligenza artificiale la bozza di regolamentazione che è in discussione al momento grazie grazie facciamo raccogliamo vediamo se ci sono altre domande professore o risponde subito come volete vediamo un attimo se ci sono altre domande Enrico Mauri sì vedo adesso sì grazie anch'io faccio i complimenti per l'esposizione soprattutto per il quadro complessivo che una considerazione rispetto ai cinque punti terminali volevo ribadire il concetto dell'importanza del dibattito che c'è stato negli Stati Uniti nelle recente elezioni del discorso della centralità dei monopoli e della opportunità che questi vengano limitati nelle loro azioni in particolare un valore nuovo che concentra le ricchezze e il capitale su due aspetti che indibolisce sempre più i paesi poveri questo quindi richiama un po' il discorso che faceva il professore rispetto l'importanza di una risposta politica di cultura politica nuova da parte d'Europa e delude il fatto di sentire e dire che invece l'Europa sta perdendo una grande occasione io vorrei fare tre domande al professore uno sempre relazionandomi i punti finali che fine ha fatto le open source perché ritengo importante che su questo argomento si cerchi un attimino di perseguire quelle strade alternative che lui richiamava in particolare anche rispetto al discorso dell'immiginazione della creatività due la questione delle biotecnologie cioè se vogliamo tutta la questione del covid ha portato dentro la necessità su questi argomenti di andare esattamente in direzione contraria di quello che abbiamo visto tre ultima cosa vorrei sapere una sua impressione sull'esperienza relativa di investimenti sui big data che sta facendo l'Emilia Romagna anche per capire un pochino qualcosa in Italia di un pochino di positivo grazie e complimenti grazie riccardo vivo se non vado errato vuole intervenire riccardo sono qua sono qua ecco ringrazio il professore per la risultiva e chiarezza di esposizione io vengo da una storia professionale ho lavorato nella più grande azienda di telecomunicazioni in Italia e sappiamo come è andato a finire il discorso della privatizzazione eccetera cosa che in questi giorni si sta parlando nei giornali dove nuove assetti societari eccetera e quant'altro e io ricordo che già a metà degli anni 90 io facendo il commerciale in questa azienda andavo a proporre soluzioni di applicazioni di software in rete stiamo parlando quando internet era appena agli esordi voglio dire che c'è stata da una come dire un ritardo notevole da parte non solo del ritardo voluto evidentemente un'incapacità non so come definirla da parte sia della nostra classe imprenditoriale sia da parte del non so se il centro-sinistra non so come definire ma chi ha avuto le pretese di governare questo paese cioè parlo della liberalizzazione delle telecomunicazioni in Italia quindi quello che è accaduto con SIP telecom e quant'altro quindi che sia risolto comunque in una vendita di un nostro asset importante di un'infrastruttura molto importante agli stranieri che non hanno saputo non hanno voluto investire nel nostro paese quindi il nostro ritardo nel digitale e l'infrastruttura è dovuto soprattutto a questo cosa che invece in altri paesi europei parlo da Germania Francia non è avvenuto io ricordo benissimo di una scuola d'eccellenza all'Aquila della Rice-Romuri dove tutti una parte di chi andava a lavorare in aziende di telecomunicazioni transitava in questa scuola era una scuola post laurea cioè quindi un ritardo accumulato dovuto a quella che noi possiamo definire la nostra classe dirigente nazionale sui Genes quindi governi politici imprenditori e quant'altro quindi questo diciamo io quando vabbè quando noi passiamo per esempio sulla tangenziale Ovest vediamo quella torre Tim Arzano per esempio lì pochi sanno che lì sotto c'è uno dei più grandi data center che Telecom aveva costruito a metà degli anni 90 quello è quello di Roma questo pochi lo sanno perché vabbè fa parte della nostra storia e vabbè quindi è giusto per denunciare un po' il ritardo del nostro paese in questa cosa l'altra cosa che mi sorprende e questo vabbè non è stato non l'ho visto nella sua presentazione professore il fatto che le nuove tecnologie sono nate appunto tutto così capire da da una spinta sia da parte del governo statunitense nel finanziare soldi nel finanziare ricerche in questa tecnologia attraverso ovviamente la spesa militare e anche una spinta come dire ideologica da parte di studenti dei campus universitari americani poi in California è nato il fenomeno della Silicon Valley perché all'inizio sembrava quasi un movimento rivoluzionario quindi gli hacker inizialmente che sembravano come dire contrapporre a cui portare un ideale di liberazione e così via quindi l'utilizzo di queste tecnologie come strumento di liberazione dell'umualità cosa che invece poi si è rivelata al contrario perché ovviamente il grande capitale si è appropriato di questa tecnologia per farlo diventare uno strumento di dominio poi qui alla Casa della Cultura abbiamo assistito anche conferenze sul discorso dell'algoritmo quindi come contrapporre agli algoritmi della nostra attività lavorativa o comunque in genere un nostro algoritmo come dire da contrapporre appunto a questo paradigma a questi algoritmi diciamo di dominio che vengono perquisizzati nel mondo del lavoro e non solo ma nel controllo generale ecco questo un po' in sintesi dei requisiti grazie ho visto che c'è una richiesta di domanda di Dario Marchesi sì grazie il professore mi ha rincurato molto perché io mi sono laureato con il professor Gianni degli Antoni che forse lo conoscerà e quando sento parlare di intelligenza artificiale mi fumi esce il fumo degli occhi no perché è come come algoritmo che sia una cosa così estemporanea che c'è in natura e io voglio ricordare lei ha ricordato bene che questi sono prodotti tutti dell'uomo dietro c'è dei programmi fatti da uomo non so se mi è sfuggito sul suo intervento il problema è la proprietà dei dati ma il problema è anche questi programmi questi algoritmi che sono fatti da uomini i quali scegliono come scegliere i dati e come elaborarli e dare le risposte su questo volevo sapere come siamo messi l'altra domanda è che ho letto proprio ieri che c'è stata una delibera non so dal Consiglio Europeo o da qualcosa che sta regolamentando questo tutta questa serie di problematiche nel campo dell'utilizzo dei dati della proprietà intellettuale di queste informazioni grazie mille grazie a te Dario vedo un ultimo che sono già molte le domande quindi vedo un'ultima domanda io non ho capito bene chi la manda ma chiede al professore una valutazione sul sistema virtuale valutario virtuale dei bitcoin ok basta io fermerei qui e darei la parola professore davvero mi sembrano molte le questioni poste sì infatti infatti vediamo un provo io per ruccio l'ho mandata io per ruccio scusa l'ho mandata io l'email la richiesta ah sì benissimo grazie Mattias bene allora sì tantissime domande non so se riesco o se so rispondere a tutto allora parto dall'inizio che è stato anche ripreso poi in coda allora Unione Europea certo sono a conoscenza di le iniziative dell'Unione Europea prima sulla privacy poi su intelligenza artificiale sui dati eccetera eccetera quindi si riconosco e so anche che alcune delle cose che ho raccontato per esempio sui sul silicio e sui cavi adesso fa parte di una di una strategia della Commissione Europea mi posso anche perché pubblico vantare un minimo perché nel novembre del 2019 è stato invitato da un think tank di Bruxelles a fare un breve discorso alla commissaria Festager che è anche vicepresidente della Commissione Europea con il dossier digitale in cui ho proprio detto ho fatto vedere alcuni delle slide che ho fatto vedere a voi cioè si parla tanto di intelligenza artificiale ma ci sono delle cose molto meno sexy come silicio sistemi operativi eccetera che sono cruciali dove l'Europa è debolissima e sicuramente per una coincidenza quindi non mi attribuisco nessun merito ma quattro mesi dopo o giù di lì nella strategia di Chiarri Breton della Commissione Europea improvvisamente sono comparsi sicuramente il tema dei microprocessori del silicio avanzato quindi sì ho presente quello che si fa a livello europeo sono dopo vent'anni che seguo le cose che capitano a livello europeo pur essendo consapevole che è chiaramente un livello importante anche perché poi le direttive le dobbiamo recepire a livello italiano sono abbastanza scettico che ci possa essere un radicale cambiamento dei rapporti tra Europa e Stati Uniti in questo settore e temo sospetto che abbia a che fare con i rapporti di forza tra Europa e Stati Uniti nel senso che l'effettiva libertà di azione dell'Unione Europea la quale vi ricordo noi non siamo una federazione l'Unione Europea è una strana creatura che in realtà chiaramente dipende dalla volontà dei suoi principali paesi quindi in particolare dalla volontà della Germania e della Francia in second ordine dell'Italia e mi chiedo quanto sia l'effettiva libertà di manovra disponibile ai paesi europei in questo ambito mi chiedo se non ci sia proprio un limite geopolitico cioè se gli Stati Uniti non abbiano detto fate pure quello che volete ma quello che volete fare va negoziato con noi e tutte queste normative sono pesantemente negoziate con i lobbisti a Bruxelles di questi dei big tech e oltre un certo limite non potete spingervi è una la mia è un'ipotesi che però è figlia di 20 anni di osservazioni e di 20 anni di constatazione che l'Europa prima di tutto certe cose non le ha fatte e in ogni caso sembra sempre timida sembra sempre che certe opzioni che in via di principio sono perfettamente discutite cioè si possono decisamente considerare invece non vengono effettivamente considerate quindi mi chiedo se proprio non si possa ok o se i politici i governi europei non se la sentano in cambio di altro perché comunque in politica si negozia per cui l'impressione che ho io è che i Stati Uniti abbiano detto sentite non l'avete fatto fino adesso non l'avete fatto fino a quando potevate adesso state bravi sotto l'ombrello digitale americano così come state sotto l'ombrello nucleare e in cambio farete altro farete soldi in qualche altra maniera mia impressione prendetela per quella che vale probabilmente poco o niente allora per quello che riguarda invece il dibattito americano sui monopoli sì il vento è un po' cambiato negli Stati Uniti si parla ormai da qualche anno apertamente di regolare le big tech di rispolverare una tradizione antitrust che è stata che era americana che è nata in America con lo Sherman Act nel 1886 mi sembra e che ha portato negli anni della grande America progressista della fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento allo scorporo di acciaierie ferrovie e intusse petrolifere è andata in sonno quella tradizione per 40-50 anni e adesso sta riemergendo Biden la sua lezione aveva suscitato un anno fa grandi speranze ha nominato una delle accademiche più importanti che invocano interventi severi contro le big tech a capo della Federal Trade Commission Lisa Khan ci ho detto è passato un anno Biden è progressivamente più debole e non abbiamo ancora visto azioni incisive per cui mi chiedo se queste speranze si concretizzeranno che fine ha fatto l'open source è lungo discorso lo dico per chi non lo sa il movimento del software libero più precisamente è un movimento che su basi etico-politiche auspica la condivisione del software per tutto il pranzo di motivi che non abbiamo il tempo da affrontare qui e questo momento del software libero ha prodotto un sistema operativo alternativo a Microsoft che è chiamato Linux che magari qualcuno di voi usa anche però a distanza di parecchi anni a questo punto possiamo dire che Linux ha una percentuale infinitesima del mercato dei sistemi operativi perché continua ad essere stradominato da Apple da Google e soprattutto da Microsoft è molto usato nei server quindi paradossalmente le famose data farm di cui vi parlavo dei grandi big tech usano Linux quindi si sono appropriate di questo prodotto collettivo e l'hanno usato con grande con grande utilità loro nei le macchine che utilizzano per i loro servizi la riflessione etico-politica rimane valida a distanza di decenni di 40 anni credo che incida comunque molto molto poco sulle cose che abbiamo discusso oggi quindi non è assolutamente una panacea per risolvere il grande squilibrio di potere che abbiamo discusso tant'è vero che appunto se ne sono appropriate almeno in parte sull'investimento su big data in Emilia Romagna e non solo in Emilia Romagna si sta parlando facendo varie cose anche il governo attuale sta lavorando il fatto che la telecom di cui ha parlato poi dopo Riccardo Vivo abbia fatto una partner strategica con Google queste iniziative che da una parte astrettamente il fatto che il governo italiano si voglia dotare di infrastrutture avanzate eccetera è chiaramente lodevole il fatto che poi questi dati vengano poi effettivamente gestiti con tecnologia appunto delle big tech mi chiedo quali saranno le conseguenze il rischio dell'Italia molto forte che l'ho sentito dire tante volte ormai il treno per queste tecnologie l'Italia l'ha perduto non possiamo non rivolgerci ad Amazon a Microsoft a Google mi sembra che la classe che chiamare la dirigente è fare un complemento un po' troppo spinto ma diciamo chi decide in Italia abbia ormai o forse da ormai da tanto tempo ma sicuramente adesso deciso che non c'è alternativa a dare tutto in mano alle big tech e questo era il mio timore tra l'altro molte delle persone in questo governo anche in posizioni apicali hanno una storia come dire di intensa frequentazione di imprese nordamericane si si ricordava la privatizzazione di Telecom certo la privatizzazione di Telecom chissà che insomma hanno scritto anche dei libri sulla storia però chissà quando sapremo tutta la storia perché da una parte può essere ignoranza cioè non capire quello che vi ho letto all'inizio la citazione di Sartre che l'infrastruttura di telecomunicazione è assolutamente strategica non è un'impresa economica come tutte le altre le telecomunicazioni hanno una rilevanza politica democratica fondamentale quindi privatizzarle in quel modo è stata una catastrofe dovuta in parte mi immagino in parte ignoranza e mi chiedo se non anche a qualcosa di peggio dell'ignoranza si si ricordava la scuola Reis Romoli qua a Torino c'è via Reis Romoli dove c'era il centro di ricerca di Telecom il vecchio Xelt poi cambiato il nome adesso sostanzialmente non esiste più certo perché le imprese pubbliche una cosa che spesso non si ricorda ma le grandi imprese pubbliche molte delle quali sono state privatizzate in quegli anni erano imprese che facevano ricerca e facevano ricerca perché le imprese private italiane le grandi imprese private italiane notoriamente ne facevano poca ok quindi meno male che c'erano le grandi imprese pubbliche che facevano ricerca e tra l'altro assumevano laureati con lavori dignitosi e quindi una delle catastrofi è stata proprio la grande campagna di privatizzazione tra cui forse il caso più egregio è quello di Telecom governo americano sì c'è anche questo ricordo dell'ideologia dell'ideologia sì c'è un libro molto bello di Fred Turner che è uno storico che l'insegna Stanford che ha scritto dalla controcultura alla cibercultura dove mappa in maniera precisa questa transizione sostanzialmente del movimento hippie che è una delle due grandi biforcazioni del movimento studentesco americano da una parte che era la nuova sinistra la new left e dall'altra il movimento che chiamano degli hippie che pone delle basi culturali ideologiche per quella che poi sarà l'ideologia californiana come l'ha chiamata qualcuno sì è interessante come il capovolgimento che alcuni avevano già previsto allora di questa tendenza abbastanza anarchica perché la base ideologico-politica è anarchica anarcho-individualismo potremmo dire che si pensava liberatorio e che poi è finito prevedibilmente in pasto al capitale poi il ruolo degli umani nell'intelligenza artificiale se ho ben capito la prima domanda di Dario Marchesi sì in realtà il ruolo degli umani è molto importante ma è molto importante anche in un altro senso come ha dimostrato documentato Antonio Casilli con un libro pubblicato anche in Italia da Feltrinelli Gli schiavi del click la cosiddetta intelligenza artificiale in realtà anche quella stato dell'arte usata in questo momento da Apple offerta da Apple da Google eccetera ha dietro legioni di esseri umani legioni di esseri umani non solo che fanno il lavoro preparatorio per lo sviluppo degli algoritmi etichettando i dati sostanzialmente quindi vedendo milioni di foto e dicendo c'è o non c'è una domanda che fa entrare in crisi il sistema è documentato che a quel punto interviene un umano ok è documentato che interviene l'operatore umano che fornisce la risposta se possibile altrimenti Alexa dice che non lo sa ok quindi in realtà la cosiddetta intelligenza artificiale è anche molto umana proprio concretamente per il coinvolgimento di esseri umani chiaramente nella retorica nel marketing di questa cosa viene omessa anche perché questi lavoratori spesso sono lavoratori mal pagati di paesi in via di sviluppo e quindi si scoprirebbe tutta una serie di sfruttamenti c'è un grande sfruttamento dei lavoratori e ultima domanda su bitcoin allora sono anche questo è un discorso ampio però sono abbastanza tranchant nel dire che le criptovalute sono il classico frutto del delirio dei tecnici che non hanno studiato scienze politiche o economia nel senso che algoritmi brillanti come quello di bitcoin e quindi che si basa sulla blockchain che a sua volta si basa su scoperte ancora precedenti sono brillanti dal punto di vista tecnico ma dopodiché entrano in uno spazio che è squisitamente politico che è quello della moneta le radici politiche della bitcoin sono radici politiche anarcho-reazionaria di quelli che rimpiangono lo standard aureo per intenderci c'è un bellissimo libricino di uno che aveva capito tutto con larghissimo anticipo David Golumbia intitolato The Politics of Bitcoin nel quale capisce esattamente che la radice è la privatizzazione della moneta che auspicava Hayek che è uno dei grandi teorici del mio liberismo non si capisce che la moneta è un fatto squisitamente sociale la moneta è una finzione collettiva che ha valore perché ci crediamo e quindi è vero che non è più basata sull'oro o sul dollaro ma come diceva Adam Toos il grande storico l'altro giorno è basata su tutto è basata sull'intera società quindi in realtà è fortissima la moneta che usiamo attualmente cos'è Fiat che in teoria è basata su nulla quindi Bitcoin e poi comunque potrei dirvi parecchie altre cose non svolgere delle funzioni fondamentali della moneta il fatto che cambi valore così drasticamente chiaramente diventa la rende inadatta per conservare valore come invece tipicamente facciamo chi se lo può permettere con la moneta ordinaria eccetera eccetera insomma la mia posizione su Bitcoin in generale sulle criptovalute è fortemente negativa ma non per motivi tecnici grazie 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 professore possiamo concludere qui questa conversazione è stata forse in mio parere affascinante devo dire di grandissimo interesse mi ci dice che non senta volevo dire voglio ringraziare una conversazione affascinante ha avuto enormi elementi di riflessione per continuare il nostro percorso io quindi chiuderei qui ringrazio nuovamente il professore Juan Carlos De Martín ringrazio tutti voi ricordo il recupero di sabato prossimo sabato mattina prossima del tesorale formula giustizia detto questo grazie 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 a voi grazie molto molto interessante grazie 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 professore grazie a voi 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 grazie a voi